Ogni domenica sera a Fano da giugno a settembre gli amanti del bel canto e della musica classica avranno a disposizione un ricco programma di concerti nella Pinacoteca Auditorium San Domenico. Un cartellone vario ed articolato tra scuole musicali, complessi bandistici, cori di musica sacra ed orchestre che spazierà in vari generi e proposte musicali che data la location caratterizzeranno le serate estive in centro. Altro elemento che qualifica maggiormente questo spazio pubblico è il nuovo acquisto della Pinacoteca, un pianoforte che rimarrà in pianta stabile per coloro che necessitano di questo magnifico strumento per le proprie rappresentazioni. Abbiamo dotato questa Pinacoteca, questo auditorium anche di un pianoforte in modo che chi vorrà fare dei concerti, chi vorrà fare dei concerti non avrà più l'impegno di portarlo e lo terremo sempre qui a nostra disposizione. Annuncio anche che tutte le domeniche dell'estate a partire da domenica prossima 5 giugno fino a domenica 11 di settembre la Fondazione organizza proprio in questa ex chiesa, in questa Pinacoteca, dei concerti vocali e strumentali, 14 concerti che saranno tenuti da associazioni culturali del nostro territorio. Saranno musiche, brani, vocali o strumentali di diversa estrazione culturale, di diverso periodo moderno, sacro, antico, di diversa estrazione vocale e strumentale che consentiranno a chi vorrà, sia a nostri concittadini che turisti, di passare qualche ora interessante, bella, a sentire dell'ottima musica in questo magnifico luogo e avranno anche la possibilità di rivedere, di visitare queste opere d'arte contenute in questo scrigno d'arte che contiene opere d'arte di grandissimo valore di natura religiosa. L'appuntamento per tutti gli amanti del genere è per il primo concerto che si terrà domenica 5 giugno alle ore 21 e 15 ad esibirsi la scuola di musica Bramucci con alcuni saggi degli studenti.